8.000 nuovi impianti di illuminazione pubblica controllati in remoto con la teleassistenza per garantire interventi più immediati, 42 telecamere aggiuntive per la videosorveglianza urbana di concerto con la prefettura che vanno ad aggiungersi a quelle già esistenti in dotazione al corpo di polizia municipale e il progetto Paride approvato dall'aggiunta municipale di Teramo. 42 telecamere che ci consentiranno di sostituire quelle esistenti, di potenziare il sistema esistente soprattutto su alcune zone particolarmente sensibili anche attraverso un percorso condiviso con le forze dell'ordine, con la prefettura con le quali abbiamo avviato un'iniziativa sinergica per garantire una maggiore vigilanza e sicurezza del territorio. Avete stabilito quali saranno queste zone? Abbiamo delle indicazioni, dato delle indicazioni di massimo ovviamente per avere l'ok soprattutto sulle nuove telecamere dobbiamo concordare con il tavolo in prefettura, con il comitato in prefettura ma non dovrebbero esserci problemi anche perché le aree che abbiamo individuato sono le aree più sensibili del territorio, quelle che richiedono maggiore attenzione non solo esclusivamente in città, nell'area urbana, nel centro cittadino ma anche in alcune zone periferiche che anche a causa dello spopolamento stanno rischiando o meglio si verificano in queste zone dei fenomeni troppo spesso di sciacallaggio che dobbiamo assolutamente impedire di evitare. E poi l'altro aspetto importante che è collegato con la sicurezza ma non solo perché è anche un aspetto ovviamente legato all'arredo, urbano, al decoro, all'estetica della città è il potenziamento della pubblica illuminazione. Quindi nuovi punti luce su cui stiamo adesso lavorando perché le esigenze sono tante in particolare nelle zone frazionali ma non solo che ci consentiranno appunto di offrire un servizio migliore su tutta l'area della città. Teramo diventerà così una smart city con i fondi a disposizione del progetto Paride. Sarà possibile oltre che implementare la rete della pubblica illuminazione nel centro urbano e nelle frazioni, proprio in queste ultime zone arriverà il wifi gratuito. Grazie.